Chi ha fatto il tuo abito? Non ho mai visto niente di simile. Questo vecchio straccetto? Oh, come ne vorrei uno anch'io. E anch'io? L'outfit più bello di sempre! Oh, devo averne uno, ragazza! Lo faranno i miei topolini? Allora questo è l'amore. Inchinatevi alla principessa Vanellope, la regina della comodità. Vanellope! Di tutte le cose strane di questo mondo, non avrei mai pensato di indossare una vera... Come si chiama? Ah, oh sì, maglietta! Con questa maglietta io vivo il mio sogno. Oi, 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 che cos'è successo? Ehm, sta cantando? Sì, ma c'era della musica e un riflettore. Aspetta, l'avete visto anche voi, giusto? È così che succede quando una principessa canta i propri sogni. A me non è mai successo, cioè neanche una volta. Perché non ci provi? Cos'è che desideri davvero? Dillo cantando. Ok, certo, potrei farlo. Vediamo. Oh, mio volante! Oh, mio volante! Io voglio un nuovo bel volante! Dun 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 dun! Wow! Beh, bisogna lavorarci un pochino. Scusa questo volante di cui canti. È una metafora o no? Eh? Oh, no, no, non è una metafora. Io voglio letteralmente il volante. Il problema è che sono un pochino stonata. Pure un pochino stonata. Sei un pochino stonata. Beh, bisogna orarci un pochino stonata. E non so, non so, non so, non so. E non so. Grazie a tutti